Massimiliano Fedriga, perché la Liga Nord ha abbandonato l'Aula? Perché il Presidente del Consiglio vuole imporre una riforma sbagliata e anzi dannosa per i cittadini, sia nel merito, con una riforma centralista che ammazza le autonomie locali, e sia con un metodo che è più consono a un piccolo e squallido dittatore, piuttosto che a colui che dovrebbe trovare un momento di sintesi, soprattutto quando si parla di riforme costituzionali. Il Presidente del Consiglio sta governando con una maggioranza che rappresenta il 27% dei cittadini, perché questi sono i dati del 2013, con dei numeri falsati da un premio di maggioranza che la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo. Se non si rende conto di questo, o non è l'altezza, oppure è in malafede. Lei ha detto che manca l'arbitro in questa partita? Noi abbiamo detto più che altro che l'arbitro non ha fischiato il fallo. Un fallo istituzionale gravissimo che mette a rischio la democrazia parlamentare. Ormai c'è un Presidente del Consiglio che arriva in aula e ordina ai suoi servili deputati cosa fare e come muoversi. È inaccettabile anche per la dignità del Parlamento, ma anche per la dignità umana che qualcuno ha perso totalmente con la promessa di una ricandidatura alla prossima tornata elettorale.